Furto la scorsa notte a Licata all'interno di un vivaio di piante per l'agricoltura. Un giovane licatese è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso a rubare. All'interno del vivaio confezioni di piantine in vegetazione e diversi flaconi di anticrittogamici e fertilizzanti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata hanno arrestato in flagranza di reato il licatese Antonino Santa Maria, 42 anni, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine. Poiché è resosi responsabile di furto aggravato all'interno di un vivaio di piante per l'agricoltura. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, dopo aver scavalcato la recinzione, si sarebbe introdotto all'interno del vivaio, riuscendo a sottrarre alcune confezioni di piantine in vegetazione, diversi flaconi di anticrittogamici e fertilizzanti, ma è stato prontamente bloccato dai carabinieri. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, la refurtiva, interamente recuperata dai carabinieri, è stata restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, espletata le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.